Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. La campagna di microcippatura lanciata anche a Sciacca dalla LAV, che ha ottenuto il sostegno da parte del comune e del servizio veterinario, sta dando buoni risultati. Dopo la prima fase si è già conclusa con oltre 50 microcippature, quindi un risultato che già è positivo, ma il servizio continuo. È vero Iris Pedra? Sì, assolutamente. Il servizio continua fino alla fine dell'anno, quindi l'ordinanza è prevista fino al 31 di dicembre. Volevamo appunto rinnovare l'invito a tutta la cittadinanza a presentarsi all'ambulatorio di microcippatura. Per microcippare gratuitamente gli orari di apertura sono il lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 11. Assessore Bacchi, il comune ha sostenuto questa iniziativa, ma c'è anche tanto altro da fare per il randaggismo che rimane un tema centrale a Sciacca? Assolutamente sì. Il comune ha sostenuto questa iniziativa, ma non solo, perché il comune si è fatto parte attiva per quanto riguarda l'attività di sterilizzazione dei randaggi, perché chiaramente l'attività di sterilizzazione consente il non riprodursi di cani randaggi e questo giusto per arrivare anche alla chiusura del percorso degli animali. L'attività di microcippatura, ricordo questo progetto attualmente che si sta facendo, è molto importante perché consente l'identificazione del cane, perché il microchip consente l'identificazione del soggetto di appartenenza del soggetto, se di natura privatistica o anche pubblica. Sono tutte attività che il comune ha sostenuto grazie all'intervento del servizio veterinario, che ringrazio, perché sono attività svolte dal servizio veterinario, grazie anche al finanziamento da parte della regione siciliana. Ma tutte queste attività, seppur tendenti alla risoluzione del problema, il problema è ancora in atto perché abbiamo randaggi, ci sono tutte queste problematiche che giornalmente riscontriamo e laddove si riscontrano gruppi di cani randaggi che qualche volta diventano anche aggressivi per la collettività. Noi come comune riceviamo continue sollecitazioni, ci stiamo lavorando, ringrazio anche le associazioni che in tal senso si stanno adoperando, però purtroppo il problema non è risolto, anche se tendenzialmente credo di avere imboccato la strada giusta per risolverlo. Dottore Costa, questo è un aspetto del problema, quello della microchipatura. Lei che tra l'altro, oltre a operare da molti anni al servizio veterinario, è anche un consigliere comunale, quindi riesce a verificare la situazione anche da un altro punto di osservazione. Cosa occorrerebbe fare per dare un'accelerazione ulteriore? Perché purtroppo, come si diceva in precedenza, ci sono ancora a Sciacca tanti randaggi in giro. Sicuramente queste iniziative, come quella interpresa nel Comune di Sciacca, vanno in questa direzione. La sensibilizzazione è fondamentale, molti cittadini ancora non sanno che il cane deve essere identificato, per cui queste iniziative con le associazioni animalistiche hanno questo obiettivo, sensibilizzare la popolazione alla gestione responsabile dell'animale. Chiaramente un cane identificato, come diceva bene l'assessore, è un cane che non può essere abbandonato, non si può smarrire, nel caso in cui è smarrito può essere facilmente ritrovato con la lettura del microchip, perché c'è una banca dati nazionale, dove carichiamo tutti i dati del cane e del proprietario, quindi sono abbinati. Chiaramente il problema è che tutti i cani dei canili sono sterilizzati, lo possiamo tranquillamente affermare, per cui non ci sono cani non sterilizzati nei canili con il quale il Comune di Sciacca è convenzionato. Però è chiaro che sul territorio insistono diverse situazioni di branchi di cani che possono continuare ad accoppiarsi e quindi a produrre cuccioli. La cosa, secondo me, più importante da fare sarebbe sensibilizzare alle adozioni, di modo che si possono anche creare nuovi spazi all'interno dei canili e utilizzare questi nuovi spazi per poter catturare, identificare e sterilizzare i cani presenti sul territorio. Ieri si vedrà questa la linea da seguire, cioè puntare principalmente sulle adozioni. Per quanto riguarda le sterilizzazioni? Assolutamente, le adozioni sono una parte fondamentale. Invitiamo sempre le persone a conoscere i nostri canili, a presentarsi in canile anche solo per curiosità. C'è un po' l'idea antica di quello che era il canile. In realtà i canili al momento sono dei luoghi in cui i cani possono vivere una vita tutto sommato in linea con il loro benessere. Invitiamo le famiglie a presentarsi perché ci sono cani di qualsiasi tipo. Insomma è quasi impossibile non trovare il cane adatto alla propria famiglia. Si parte dai cuccioli, ma anche i meno cuccioli, insomma. Sono tutti sani, vaccinati, appunto come diceva il dottore, sono tutti già sterilizzati. Quindi invitiamo tutti a presentarsi o al canile di Sciacca oppure a quella di Sambuca. Assessore, per concludere, quali le altre iniziative per incidere maggiormente? Ricordiamo che per tutto il panorama che riguarda il randaggismo il Comune spende ormai da tempo circa 300 mila euro l'anno. Assolutamente sì, dico purtroppo, purtroppo tra virgolette, perché gli animali è giusto quindi assisterli e quindi trattarli bene. Quindi i cani giustamente che sono prima sterilizzati, microcippati, poi vengono ricoverati per un arco temporale nel canile, ma come ha detto appunto chi mi ha preceduto, sono assistiti anche perché nel canile c'è un veterinario come responsabile tecnico per assicurare appunto la salute degli animali e quindi diciamo un'assistenza dignitosa. È chiaro che purtroppo oggi ci troviamo, se non il percorso quindi arriva al regime, con la sterilizzazione e la microcippatura, noi purtroppo avremo sempre questi branchi di cani che gironzolano il lungo e il largo durante la città, che fino a quando è uno o due il problema non si pone. Però diciamo molte volte viene segnalato un branco di cani che aggredisce una ragazzina col motorino dove rischia addirittura pure di farla cadere, quindi da una situazione normale diventa patologica. Quindi si sta lavorando in tal senso, è chiaro che purtroppo non si riesce anche perché non dipende solo ed esclusivamente dalle azioni che il Comune fa, ma dipende anche dalla sensibilità dei cittadini, mi riferisco quindi alle audiozioni, mi riferisco alla microcippatura, quindi dai cani padronali, dove effettivamente sono tutte azioni convergenti per la risoluzione del problema.